Zermission Rome 2011, siamo in compagnia di Dilio Ciuffarella, direttore generale di Delta. Quali prodotti presentate quest'anno a Zermission Rome? Il prodotto di punta è certamente il modulo fotovoltaico in silicio policristallino con tolleranza solo positiva 0,3% ed è il primo modulo di una importante società asiatica che ha ottenuto la certificazione europea in anteprima. In parallelo abbiamo tutti gli inverte di stringa, una gamma dal 2,5 kW fino al 20 kW che è un prodotto adatto per il mercato residenziale italiano con alta efficienza del 98,6%. In anteprima assoluta abbiamo anche il microinverter che è un prodotto della tecnologia molto avanzata che consente di agganciare un piccolo inverter ad ogni pannello, aumentare l'affidabilità del sistema complessiva e aumentare l'efficienza. Uno sguardo a questi ultimi 12 mesi sul mercato italiano e sull'esperienza di Delta? Nonostante il blocco degli incentivi che ha causato una grande fibrillazione al mercato per i primi 3-4 mesi dell'anno devo dire che la nostra società ha ottenuto ottimi risultati. Ad oggi abbiamo già superato abbondantemente i risultati del 2010 che pure è stato un anno di boom. Naturalmente è un mercato particolarmente difficile che occorre seguire con grande cautela prevediamo infatti un consolidamento delle pelle del settore. Due parole sul futuro, i prossimi mesi cosa ci si aspetta? Il mercato fotovoltaico ci ha insegnato che ci sono picchi positivi e negativi quelli negativi sono difficilmente assorbibili dalle piccole società. Quindi come dicevo poc'anzi un consolidamento dei pelle del settore decisamente. Siamo oggi circa 1.500 a lavorare nel mercato italiano come società. D'altra parte questo stimolerà moltissimo la competitività a vantaggio dell'utente finale e con risvolti positivi in generale per l'economia. dovremmo avvicinarci presto alla tanto agognata Great Parity al di là della quale poi il solare avrà un futuro ancora più positivo. Cosa manca allora per raggiungere questo obiettivo? Manca un po' di fiducia indubbiamente perché la fiducia al Solar Expo di Verone era completamente scomparsa. Manca indubbiamente, ospichiamo che il governo mantenga le promesse che sono nel quarto conto di energia fino al 2016. Ci sono le condizioni per farcela. Parlando invece di Zerémission Roma, come state vivendo questa edizione 2011? Morale molto alto, sia da parte degli espositori che da parte di tutti i visitatori. C'è una notevole differenza rispetto a Verona, quindi la fiera è migliorata rispetto all'anno scorso decisamente. Quindi crediamo che Roma possa giocare in futuro un ruolo ancora più importante ed essere leader a livello italiano nel solare. Grazie. Grazie.